Musica Cari sorelle, cari fratelli, nel nostro desiderio di salvezza da quale si innalza il grido Osanna, dai salvaci, la carezza più grande ci viene dall'annuncio dell'angelo a Maria. Il Signore è con te, con lei che è piena di grazia. E il mistero dell'incarnazione è innanzitutto il sì di Dio al nostro desiderio, che si compirà nel sì di Gesù sulla croce e che finalmente viene accolto dal sì di Maria in attesa dei nostri sì. E la risposta finale di Maria, ecco sono la serva del Signore in questo episodio dell'annunciazione, è l'inizio di tutto. Dire sì significa iniziare a riconoscere e crescere sempre di più nella consapevolezza che la vita sta nel farsi servo, nel farsi prossimo come Gesù. È appunto quella logica opposta alle logiche bestiali e mostruose dei grandi imperi del mondo. E Gesù stesso conoscerà sempre più se stesso nella sua vita terrena come il servo. E così infatti lo intenderanno anche le prime comunità cristiane. E' interessante che se nella prima notte della sua vita Gesù è a Betlemme, di cui tra qualche giorno faremo memoria, gli uomini e le donne si sono inginocchiati davanti a lui, nell'ultima notte, l'ultima sera, nell'ultima cena, sarà Gesù con la lavanda dei piedi a inginocchiarsi e a inginocchiarsi a noi, ad adorarci. Questa è la vita celebrata nella festa del Santo Natale. La comunione di chi sente la vita dell'altro come la propria vita, di chi gioisce con chi è nella gioia, chi soffre con chi è nella sofferenza. Questo significa dire di sì. E Gesù e Maria hanno inaugurato i nostri sì. Nelle notte delle nostre esistenze si è accesa ed è ancora accesa una luce che nessuno infatti potrà mai spegnere e cancellare. E proprio quando nella nostra vita il buio è talmente fitto che ci sembra impossibile poter sperare in qualcosa, in qualcuno, il Signore rende possibile sentire la grazia, la carezza di questa parola nella tenebra. Sì, ti dico sì, ho detto sì, ci sono, non sei solo. Potremmo dire c'è qualcuno veramente umano, fattosi uomo, un re, signore, servo, che ci adora e che se anche tutti ci abbandonassero, lui non ci abbandonerà mai. Grazie a tutti.